Le lenticchie restano nel tempo protagoniste indiscusse del cenone dell'ultimo dell'anno, dove saranno presenti in 8 tavole su 10 e quanto emerge dall'analisi di Coldiretti sul capodanno degli italiani, che mettono sul podio dei prodotti più gettonati, al primo posto lo spumante con l'84% e al terzo il cotechino e lo zampone con quota 69%. La produzione in Italia di lenticchie è di circa 4,3 milioni di chili. L'accoppiata vincente, sottolinea Coldiretti, è con ben 6 milioni di chili di cotechino e zampone, consumati proprio a fine anno con gran parte della produzione nazionale, che è certificata come cotechino e zampone di Modena e GP, riconoscibili dal caratteristico logo a cerchi concentrici gialli e blu con stelline dell'Unione Europea, ma si rivela anche un'apprezzabile domanda di cotechini e zampone artigianali e prodotti dagli allevatori stessi. Non solo lenticchie dunque tra i piatti portafortuna, a fine anno ci sono, continua Coldiretti, anche i chicchi di uva e di buon aspicio inoltre sono anche i melograni, simbolo di riparo e protezione.